Il centro di Mestre è come un colabrodo, basta guardare le immagini catturate dai militanti del gruppo 5 Stelle raccolte con pazienza certosina per comprendere come gli interventi per la manutenzione di piazze e marciapiedi nel cuore di Mestre prosciughino denaro come un pozzo senza fondo. All'indomani dell'inaugurazione di una pavimentazione, seppure realizzata con i materiali più pregiati, già cominciano a saltare San Pietrini, Pietre d'Istria, cominciano a staccarsi le lastre di marmo bianco, non fa eccezione la trachite, come nel caso del Sagrato della Chiesa della Salute inaugurata nel 2009 che è stato ritoccato nel 2010 e anche nel 2013 a tranche di 30.000 euro di intervento. Non parliamo poi di Piazzetta Coin, sembra un gruviera. Anche Piazza Ferretto continua ad ingoiare risorse. Il gruppo 5 Stelle denuncia le aziende che lavorano male, ma anche i tecnici degli uffici comunali incaricati di sorvegliare gli interventi e valutarne la qualità finale. I grillini poi affondano ancora di più la lama nella piaga. Per legge, dicono i funzionari comunali, si prendono pure una percentuale legata all'entità dell'intervento. Ora il gruppo 5 Stelle chiede quanto è stato speso finora per garantire ai mestrini salciati e sicuri e azzardano un calcolo approssimativo. Negli ultimi dieci anni potrebbe essere sfumato da mezzo milione ad uno intero per riparare ad errori non imputabili all'incuria dei cittadini. E intanto non sono diminuiti gli infortuni per passanti e ciclisti.